Run like hell Non perdetevi una nuova puntata di 2-4 ruote, passoni e motori in onda mercoledì 3 aprile alle 21 su ONTV Web Nostro ospite, il mio più piccolo ospite sino ad ora è Thomas Ometto che ha quasi 9 anni ed è un piccolo pilota di kart Siete tanti vero? Sì Siete tanti e com'è il rapporto fra di voi? Quando scendiamo dal kart siamo amici e poi quando tiriamo giù la visera Giusto, è così che deve essere Insieme a lui e al suo team manager Mario Mondo scopriremo il mondo dei kart, dei più piccoli e scopriremo anche quali sono le ambizioni e il futuro di questo piccolo giovane pilota Tanto vuole di far bene, c'è tanta competizione La difficoltà è sempre a livello di costi, di budget, tra tutte le cattedure Mi raccomando, vi aspetto mercoledì 3 aprile alle 21 su ONTV Web per una nuova puntata di 2-4 ruote e passione motori I'm no example I'm no example